Buonasera, ci vediamo, si fa per dire un anno dopo, quel 20 maggio di un anno fa, che era un gelido maggio, ora ci vediamo in un altro maggio che non c'è più il gelo, ma abbiamo altri problemi, grazie agli amici Brughitta e Fruttini in ordine alfabetico, sono qui a registrare questa cosa in maniera molto più professionale di quanto si è riuscito, incomparabilmente più professionale di quanto si è riuscito ad andare a fare a casa e quindi ringrazio per questa opportunità che mi hanno concesso. Ringrazio voi per l'attenzione, spero che anche quest'anno abbiate seguito con attenzione tutta la serie delle conferenze e tanto per sdrammatizzare cominciamo un po' con questa immagine, Hicks sunt leones, che è un leone per la verità non molto terrificante. Questa frase era quella che si metteva in antiche carte geografiche quando si era in presenza di una parte inesplorata e allora piuttosto che disegnare cose inesatte o fantasiose, coloro che confezionavano queste carte scrivevano questa frase, che rende l'idea ovviamente. Se uno pensa al leone pensa soprattutto all'Africa probabilmente, però in questo nostro incontro avrei un po' l'ambizione di spaziare un po' in tre continenti perlomeno, che sono tre continenti, che sono ovviamente l'Europa, l'Africa, soprattutto l'Africa settentrionale, ma non solo, e l'Asia. Forse possiamo... ecco, c'è questo paio di indirizzi che volevo segnalare. Il primo è quello della rivista Archeologia Viva. Nel numero del bimestre scorso è uscito un fascicolo, un numero, appunto, un dossier confezionato proprio sull'imestre romano con qualche accenno a ciò che accade oltre. La seconda invece è... a me il serve perché se per caso qualcuno voglia impossessarsi di questa copia che non è più nell'edicole, si può scrivere a questo indirizzo, che è quello della direzione, redazione, amministrazione e tutto quanto della rivista Archeologia Viva. Mi ha autorizzato a dire questo il direttore, ovviamente, Piero Pruneti. Il secondo è il mio indirizzo personale e ve lo do volentieri perché non siete presenti materialmente davanti a me. Può darsi che qualche omissione durante la conferenza venga un po' a disturbare la comprensione. Se qualcuno ha bisogno di un consiglio, un'aggiunta, un'indicazione bibliografica o qualsiasi cosa, sono volentieri a disposizione. Se per caso qualcuno ha da fare qualche correzione, alludo anche ai colleghi, ma non solo, è ugualmente pregato, anzi ancora più pregato di fare una segnalazione. Questo è un po' a grandi linee il panorama dell'impero e del suo Limes. È molto essenziale, nemmeno molto grande di dimensioni, però rende un po' l'idea della complessità della situazione. Se vogliamo possiamo vedere anche questo, in cui in giallo sono aggiunte la Dacia e le province di Armenia, Mesopotamia e Assiria, nonché quella di Arabia, che sono le conquiste di Traiano con cui l'impero giunse al massimo dell'espansione. Armenia, Mesopotamia e Assiria, per la verità, restarono poco nell'ambito dell'impero. Adriano stesso, il successore di Traiano, le abbandonò in quanto troppo lontane e indifendibili. Grazie a questo grafico, anch'esso abbastanza così colorato, ma non proprio particolareggiato, però abbiamo l'occasione di ricordare con grande ammirazione la rivista Limes, che si chiama Limes, la nota rivista di geopolitica. In uno dei numeri scorsi parlava proprio del modello di Roma come modello per il mondo, diciamo. C'era un bel saggio introduttivo del direttore Lucio Caracciolo e c'erano così varie cartine di cui mi servo un po' come per testo per ricordare questa bella rivista, appunto. Ho aggiunto così, come vedete un po' malamente e di mio pugno, letteralmente, il caso è di dire, le distanze principali in giorni di viaggio fra i porti principali del Mediterraneo, tanto per dare un'idea un po' delle distanze. Da Pozzuoli all'Alessandria d'Egitto, per esempio, 15-20 giorni e così via. Forse lo lascio un attimo che potete vederlo meglio. Ecco. Invece questo, se possibile, è ancora più semplice. Va però ricordato perché faceva parte delle illustrazioni di un volume interessante sull'IMS romano, che era di Lutwak, quello stratega del Pentagono, che ogni tanto vedete apparire in televisione. Lui è di origine romene, ma ha vissuto a lungo, anche in Italia, infatti parla benissimo l'italiano, e poi a lungo in Inghilterra e poi negli Stati Uniti, ed è appunto uno stratega del Pentagono. Però anni fa, molti anni fa ormai, scrisse un libro proprio sulla grande difesa dell'impero romano, con molte notizie. C'era questa tavola che io ho così proposto, non è bellissima, ne convengo, però contiene alcune indicazioni, ecco due indicazioni sommarie per avere ancora un'altra idea delle distanze e dei tempi. Da Roma a Colonia in Germania, per via di terra, cioè sono a 67 giorni di viaggio, e da Roma a Antiochia, un po' per terra, un po' per mare, sono 124 giorni di viaggio. Sì, quindi quando si dice, non so, l'imperatore a correre sul fronte orientale, è un a correre un po' sui generis, diciamo. Questa è una foto di Lutwak, personaggio che avete ben presente, anche se si è pronunciato anche, viene spesso intervistato perché parla bene l'italiano, dalle televisioni italiane è spronunciato anche sugli ultimi fatti che ci riguardano, su cui però non enterei in questo momento. Il suo volume, ecco, Edward Lutwak, il suo volume aveva come prelocativa principale quello di essere molto riccamente documentato. Lui conosce De Visu, gran parte delle cose che vedremo oggi, è un grande viaggiatore, grande esperto di molti scenari, però la sua visione del Limes è più che altro quella di una barriera, il titolo stesso del libro è la grande difesa, la grande strategia, mentre invece, come vedremo adesso, andando anche oltre il Limes, come vedremo adesso, il Limes è più che altro un punto di controllo. Certo, nei periodi in cui vi sono conflitti in corso diventa una difesa statica e bloccata, ma per gran parte della durata dell'impero romano ha funzionato anche come filtro di ingressi nell'ambito dell'impero, di uscita dall'ambito dell'impero, uomini, merci, situazioni di ogni tipo. Un altro libro illustre nella storia della bibliografia su questo tipo di problemi è quello di Mortimer Wheeler, Sir Mortimer Wheeler, la civiltà romana oltre i confini dell'impero. Ti parleremo di Wheeler anche più avanti, proprio verso la fine, perché fra l'altro ha fatto degli importantissimi scavi in India e ne parleremo necessariamente perché sono molto importanti. Ecco, qui abbiamo Mortimer Wheeler, se fossi stato a casa avrei fatto vedere la mia libreria dietro le spalle, qui c'è quella di Wheeler e forse ci guadagniamo, diciamo così. Dopo aver avuto questa prima idea dell'IMES, di quello che è oltre l'IMES, pensavo che possa essere opportuno confrontarlo con altre realtà che sono per qualche motivo confrontabili, indubbiamente si tratta anche lì di confini, ma sono del tutto diverse come natura. Una è la grande muraglia cinese, forse la più nota delle fortificazioni nel mondo, che è incomparabile sia per dimensioni sia per funzioni, perché è una funzione strettamente difensiva, poco permeabile ai passaggi da una parte all'altra. Da una parte ci siamo noi, dall'altra c'è il nemico. E poi ha avuto una serie di fasi costruttive molto più lunga dell'IMES dell'Impero Romano, che è stato sì più volte rifatto nel corso della sua storia, ma è che è stato impiantato, diciamo, una volta per tutte all'età di Augusto e poi ampliato all'età di Treiano. Poi, in alcuni tratti, anche, come vedremo, il nemico dell'Impero ha abbastanza fluttuato. Comunque, una serie di lavori che si è prolungata moltissimo, con la dinastia Qin nel 215 a.C., poi con la dinastia Han fra 206 a.C. e 220 d.C., e poi con la dinastia Ming del XIV secolo. Vediamo alcune scene, senza dilungarci troppo, di questa lunga opera che era sormontata, avete visto, da una strada. Questa è la prima fase, un po' più breve, della dinastia Qin e poi quella dell'inastia Han. Qin è questo signore qui, il cui nome è Qin Shi Huangdi, che è il primo esponente di questa sua dinastia, che poi è durata pochissimo, fra l'altro. Ma soprattutto, non solo è quello che ha iniziato la costruzione della muraglia, ma è l'imperatore che ha fatto commissionare per se stesso quel grande, grandissimo complesso di figure di terracotta nella città di Xi'an, quindi forse il monumento più noto della Cina antica dopo la muraglia. Abbiamo visto prima un ritratto così di ricostruzione relativamente recente. Qui vediamo un ritratto vero di quell'epoca, ma non dell'imperatore stesso, quanto di uno degli infiniti personaggi dell'esercito di terracotta, che come sapete poi sono diversi come fisionomia l'uno dall'altro. Ecco, questo è un arciere accovacciato, per esempio. La maggior parte è da cavalieri, come sapete. Altra idea da confrontarsi, abbastanza sinistra, è quella del muro di Berlino, che delimitava la parte della DDR rispetto alle altre tre parti della città. Quello sì che era invalicabile, questo è il famoso checkpoint Charlie ai tempi grigi in cui operavano anche i Vopos. Questa è una situazione attuale un po' meno terrificante, diciamo così, e tutt'altro ancora meno terrificante, anche se è ancora in funzione, è il muro di Nicosia, che divide la parte turca da quella greca della città, ma che ha un aspetto, vedete, tutt'altro che temibile. Poi con gli anni si è un po' attenuata la tensione. Invece cominciamo il nostro giro andando in senso un po' tradizionale, almeno nei lavori che ho fatto io su questi temi, ho sempre cominciato dalla parte settentrionale dell'Europa per poi scendere in Africa andare verso l'Asia o viceversa, ma comunque cominciando sempre dall'Europa. Anche perché tutto sommato in Europa, anzi nell'isole britanniche, c'è forse il più famoso esempio di confine che si conosca, e cioè il Vallo d'Adiano. Qui molto rapidamente si può vedere due parole sulla storia della conquista della Britannia, che cominciò con l'imperatore Claudio, che accorse, perché è chiamato da Camulodunum, forse qui vedete, o meglio ancora si vede qua, da Camulodunum, oggi Colchester, chiamato da una delle popolazioni britanniche, in difesa contro le mire di quest'altra. Camulodunum, diciamo contro Verulamium, o meglio è Verulamium che accusava Camulodunum di essere troppo, che mi dava troppo a espandersi. Seguì una guerra che Claudio brillantemente condusse a termine e si arrivò a una conquista abbastanza in profondità nell'isola, ma soltanto nella parte meridionale in questo momento. Ecco, questo era un medaglione di Claudio che era presente a Camulodunum prima ancora che fosse chiamato a dirimere questa contesa con i vicini, e quindi c'erano già buoni rapporti fra Roma e Camulodunum. Questa è la città così come si configurò con la conquista, qui il Tempio del Divo Claudio. Altra città importante già in questa prima fase era Londinium, Londra, che poi più tardi diventerà lei la capitale, mentre la prima fu Camulodunum stessa, poi la capitale è diventata Londinium. Però noi siamo più propensi a vedere la parte settenzionale, ovviamente, dove c'è non solo il Limes, il grande Vallo d'Adeano, poi c'è anche il Vallo d'Antonino, i cui resti sono meno riconoscibili e la cui durata è stata molto inferiore. E poi c'è una cosa importante al di là del confine che questo castrum, con questo nome difficile da pronunciare e che perciò vi ho scritto, il nome latino era Pinnata Castra, vediamo un po' di che si tratta. Pinnata Castra, che è questo castrum all'estremità settentrionale dell'isola britannica, di cui restano, anzi, abbastanza cospicui. Perché è importante questo dal punto di vista strategico? Perché dopo la conquista di Claudio, di cui abbiamo parlato all'inizio, ci furono altri episodi bellici in Britannia, uno dei quali in epoca Flavia, e un secondo episodio in epoca Flavia fu quando Agricola, che poi era il suocero dello storico Tacito che raccontò l'impresa, fu incaricato da due mezzi anni di conquistare tutta la Britannia, tutta la Gran Bretagna, fino all'estremità settentrionale. E partì con questo programma con l'intenzione di conquistare tutta l'isola, cosa che poi invece, come abbiamo visto, non sarebbe verificata. E la sua invenzione strategica, diciamo così, fu di fondare questo castrum molto a nord, che evitava all'esercito di dover ripiegare sulle posizioni precedenti dopo ogni avanzata. Quindi la guerra ebbe un andamento più efficace e la conquista fu ultimata. Ma poi Agricola fu richiamato da Domiziano, forse perché temeva anche lui, come altri imperatori hanno fatto, di estendere troppo il territorio e quindi di renderlo indifendibile. Pinnata Castra fu abbandonato e era rimasta la testimonianza archeologica. Fra la Britannia conquistata da Claudio e Pinnata Castra c'è il vero, quello che è stato lungo il vero confine settentrionale dell'impero, il Vallo d'Adiano, che corre da ovest verso est, come vedete, e che in questo disegnetto si può prendere in esame soprattutto perché ci consente di leggere i nomi dei siti principali che rapidamente nominerò. Haustez, Vercovicium, Vindolanda, Chesterholm, Benwell, Newcastle, Pons Ely, Ponte di Adiano, e Arbeia South Shells, rapidamente, penso proprio. La conformazione dell'impianto dell'IMES è questa, c'è una serie di castra, questo è lo schema di base di castra, diffusi lungo tutta la linea fortificata che ha varie componenti. Qui ci sono vari limites dell'impero, questo che stiamo vedendo adesso, il Vallo d'Adiano, è questo qua, e il Vallo di Antonino che vedremo fra poco è questo, molto simile fra loro, è una successione di strada, muro, fossato e terrapieno. La strada è fondamentale proprio perché l'IMES è una struttura difensiva basata sulla mobilità, non solo mobilità dell'esercito lungo tutto lo sviluppo del confine stesso, ma anche possibilità di passare da un lato all'altro. I castra, se vedete, hanno vari ingressi e consentono anche di passare, e ovviamente in maniera controllata, da una parte all'altra del muro, dalla parte interna dell'impero a quella esterna. In molti casi erano, non dico lasciati aperti, ma chiusi in maniera molto meno rigida. Queste sono le realizzazioni di varie fasi del grande muro d'Italiano. Una prima fase in blocchi di una specie di grande terrapieno, poi un muro invece in muratura con due possibili dimensioni. Questo è il rapporto fra le varie componenti dell'IMES e in particolare del Vallo d'Ariano. Questa è la fortezza di Benwell, come forse leggete, che è una ricostruzione in cui si vede il castrum attraversabile sia in un senso sia nell'altro, nei due sensi. La strada che passa anche attraverso il castrum e i terrapieni effossati che limitano la possibilità di accesso da parte delle gente externe, se per caso ce ne fosse bisogno. Tutto il muro è accompagnato anche da torri di guardia e questa è una veduta notissima che si trova presso la fortezza di Hausteds, una di quelli che vi ho indicato prima in quella cartina molto colorata e che ora vedremo anche. Il muro, come vedete, il vallo è metà anche di passeggiate e di corse e anche di marciatori, walkers, che attraversano in tutta la sua lunghezza che sono 128 km. Qui vediamo una ricostruzione in gesso del forte di Hausteds, che è quello più importante, forse, da quelli rimasti. E qui vediamo uno che ci introduce in una situazione molto particolare, è Vindolanda, Chesterholm, che stava su una prima linea difensiva creata da agricola al momento della sua avanzata. Poi, quando fu costruito il vallo dadiano leggermente più avanti, fu in qualche modo inserita nel sistema del vallum. Ma la cosa principale è che cogliamo, le cose principali sono due che cogliamo in questa situazione, un rapporto ben preciso per il castrum e le cosiddette canabe, cioè le abitazioni per tutti coloro che seguivano l'esercito, che qui è particolarmente visibile e, entro certi limiti, ben conservata, ben riconoscibile. E poi dobbiamo tener conto che qui si è avuto un singolare ritrovamento per circostanze abbastanza fortuite. Creatosi proprio nello spazio fra il castrum e le canabe, una zona molto umida, conteneva anche degli acidi, si sono conservate molto bene delle tavolette confezionate con schegge di legno di betulla o di ontano di forma rettangolare che hanno una superficie lisciata per permettere la scrittura con penne di canta in tinte in inchiostro di carbone mescolato a gomma arabica e acqua. Questa è una ditrescalia di uno di numeri scorsi di archeologia viva e consente di avere un'idea di come sono queste tavolette che poi nel caso fossero di contenuto particolarmente lungo erano inchiodate fra loro in modo da costituire un supporto molto ampio. I testi sono stati letti, scritti in latino corsivo con penna su betulla lisciata come vedevamo prima. Ci sono testi di tutti i tipi che ora ovviamente non si possono elencare alcuni ufficiali, alcuni familiari, alcuni rapporti tra ufficiali, alcuni rapporti fra parenti di ufficiali e questa è una donna, moglie di un ufficiale che invita per il suo compleanno la moglie di un altro ufficiale. La vita evidentemente al Castrum era abbastanza pacifica, nel Castrum era abbastanza pacifica nella gran parte del tempo. Un'altra, riservata di recente nel 2017, ogni volta si trovava qualche gruppo di queste tavolette ancora, invece c'era un ufficiale che si lamentava perché i suoi uomini non avevano birra. Andiamo più avanti, siamo verso Ponce Elius, l'attuale Newcastle, che prendeva il nome proprio del ponte dedicato all'imperatore Adriano e che qui spero che si veda, che comunque era un ponte in parte costruito in blocchi di pietra, in parte in legno, come vedremo un altro ponte famoso successivamente. Questo è l'ingresso del Castrum di South Shells, Arbeia, all'estremità orientale del Vallum, che va dalla foce del fiume Suolo e alla foce del fiume Tyne. Qui siamo perciò sul fiume Tyne, che è appunto quello sul quale sorge anche Newcastle. Non starò a illustrare l'interno del forte, ma due singolari stelle funerarie che sono state trovate, che ci conducono proprio in questa situazione di rapporti molteplici al di là dell'impero, anche con zone lontanissime, grandi circolazioni di gente all'interno dell'impero. Qui c'è una stelle che già di per sé stessa è un po' diversa da quelle medie della Britannia, che sono meno accurate. Una persona seduta in trono, purtroppo non ben conservata, ma soprattutto con un impianto architettonico molto raffinato. Nell'iscrizione, che ora qui non si può vedere in precisione, ma ve lo dico io, c'è una parte in latino e una parte in palmireno, niente di meno. Il dialetto di Palmira, un dialetto arabo, Palmira che di cui ci occuperemo più tardi, e che testimonia che c'era un gruppo di palmireni presente sul valdo d'Adriano, cioè proprio alle estremità opposte dell'impero. Questo signore qua è un ufficiale dell'esercito, è di nazione, è Mauro, non è palmireno lui, ma la moglie è palmirena. E c'è un altro personaggio che non ha nulla a che fare con Palmira, neppure lui, ma che evidentemente era un compagno d'arme del primo, che si fa fare un'iscrizione, una stella funerale, scusate, alla palmirena. Vedete la posizione, per esempio, del corpo disteso sulla clina? È praticamente identico, qui in particolare, è praticamente identico a quello dei rilevi palmireni veri e propri. Questo spero che si possa vedere più in grande. Non accendo soltanto al Vallo di Antonino, che, come vi dicevo, è stato creato, quello di Tagliano è stato creato nel 128, quello di Antonino è stato creato più tardi, Antonino di Inia fa il 138, il 161, ed è stato anche molto meno, è stato meno usato. Restano essenzialmente lunghi tratti del fossato. Più questa singolare lastra, alcune singolari lastre come questa, che danno conto, qualche volta anche con decorazione scultoria, della lunghezza del tratto di muro costruito da ogni unità dell'esercito. Ecco, qui ci avviciniamo a una situazione di presenza oltre l'IMES. All'interno dell'IMES, cioè all'interno del Vallo di Adiano, nel cuore della Britannia, fu trovato, fra l'altro, un grande tesoro, la località si chiama Mildenhall, di cui questo è uno dei vasi più significativi. Mildenhall si trova qui, cioè ben all'interno della Britannia, ma altri tesori molto importanti si sono stati trovati sia al di là del Vallo di Adiano, Trapplin-Law, sia in Irlanda, che non è stata mai assoggettata all'impero romano. Molto importante, ecco questa località di Trapplin-Law, molto importante è questo, che è un tesoro in gran parte costruito di vasi interi, intanto numerosissimi vasi, in parte anche di frammenti, perché spesso, quando si tesorizzavano i vasi per il valore intrinseco del metallo, più che per la qualità della resa, alcuni pezzi erano frammentati per occupare meno spazio. Mancato questo, molti pezzi sono sopravvissuti, questo deve essere stato uno di quei tesori sepolti in caso di crisi, abbandonati per poi essere recuperati e poi il recupero non avvenne. è una situazione abbastanza diffusa, in cui si tesorizzano proprio il valore del metallo. Però, siccome, come accennavo, molti sono sopravvissuti interi, si può vedere qualcosa di particolare, cioè per esempio questa insistenza su questi motivi a palline, insomma, lungo i bordi, a piccoli globi sui bordi, che è proprio tipico di questo tesoro. Questo è un solo esempio, una parte di un tesoro di una delle due località dell'Irlanda in cui sono stati trovati pezzi preziosi, un vasellame d'argento. Questa è la località chiamata Ballain. Poi restò lì fuori dell'impero, dopo che Adriano decise di creare il vallum all'altezza che abbiamo visto, sia la parte settentrionale dell'isola, la Caledonia, odierna Scozia, sia altre isole ulteriori, per esempio l'ultima Tule, come veniva definita, e che così nell'Ottocento, per esempio, è stata sempre questa l'ultima Tule, un po' un mito, ne parla anche Tacito di Tule, dicendo che appunto Caricola non ci era arrivato e forse non ci sarebbe mai arrivato, ma diciamo che Tule è rimasto un mito, questa è un'interpretazione ottocentesca con mostri di vario tipo. Passiamo sull'altro l'imes europeo, quello della Germania, che cercando un po' di velocizzare, devo dirvi che in gran parte segue il Reno. Ecco, ma per una parte, da parte dell'imperatore Flavi, e soprattutto di Domiziano, fu ampliato nella parte meridionale raccordandosi con un altro limes, quello della provincia di Rezia, che poi prosegue lungo il Danubio. Quindi una specie di unione, questa fra limes renano e quello danubiano. Vediamo subito questo strano rettilineo in questa parte creata dall'imperatore Flavi, che è un rettilineo lungo ben 50 chilometri, e la cui località più importante forse è Welsheim, ed sono 50 chilometri dritti in maniera assoluta. C'è una deviazione di un paio di metri, forse. Quindi viene ritenuta una delle opere più importanti dal punto di vista militare dell'impero romano, una precisione assoluta in questo tipo di impostazione. Ma oltre a questo ci sono altre cose da vedere. Naturalmente, rapidamente, sempre rapidamente, spero, come sappiamo, il limes della Renania, il limes della zona renana, il limes della Germania, è quello che è rimasto immediatamente a ridosso del Danubio, perciò immediatamente a ridosso della Gallia, in pratica sarebbe stato, perché Augusto aveva concepito un ambizioso programma di conquiste fino al fiume Elba, che qui vediamo, affidando l'impresa a un valente generale come Druso, ma Druso, dopo aver compiuto numerose avanzate, importanti, e aver conseguito numerose vittorie, morì improvvisamente a Mogontiucum, Mogontiucum, a Mains, una delle città, una delle di castra, lungo il limes, che poi è diventata man mano città successivamente. Morto nel 9 avanti Cristo, Druso, l'iniziativa si interruppe, Tiberio cercò di riprenderla, ma si conseguì qualche successo, ma nel 9 dopo Cristo, Druso morì nel 9 avanti Cristo, nel 9 dopo Cristo c'è un'altra disastrosa situazione per l'impero romano, la famosa battaglia di Varo, le legioni di Varo vengono annientate da un principe dei Cherushi, di questa popolazione qui, Arminio, e la sconfitta viene inflitta dai germani ai romani a Teutoburgo, località che poi è stata ritrovata in questi ultimi decenni, e così praticamente si può dire che si interrompe la conquista della Germania fino all'Elba che Augusto aveva sognato perché non sussistevano le condizioni, ci fu qualche tentativo di riprendere le operazioni, ma non si è andato avanti, quindi l'Imes rimase al Reno, in pratica è una specie di e le province di Germania Superiore e Germania Inferior sono un po' territori di confine della vicina Gallia. Anche qui si può dire che ci sono le stesse caratteristiche e l'Imes della Germania Inferior e della Germania Superiore è questo, sono molto simili fra loro. Queste sono, non si può insistere in dettagli, ma sono le successive evoluzioni del Limes nei tratti in cui è costruito in muratura, è costruito in opere artificiali, per meglio dire, cioè quello proprio dell'aggiunta degli imperatori Flavi, perché invece per la parte restante della lunghezza l'Imes è costruito dal Reno stesso e qui c'è una prima fase con un fossato e torri, un'altra con fossato torri e palizzata, un'altra con fossato torri e palizzata e strada, quindi sono varie fasi in cui si aggiungono vari elementi per una durata di due e trecento anni più o meno con successive modifiche. E questo è il tratto di Welsheim che avevo detto prima, qui si nota una parte di questo lungo rettilineo, notevoli città sorgono lungo il Reno, prima nascono come Castra, questa è Colonia, e poi si sviluppano in città, questa è una torre angolare dell'impianto di Colonia, questa rapidissimamente è Magonza, Mainz, anche qui c'erano un castrum iniziale poi allargatosi con le Canabe, cioè con gli edifici inizialmente destinati alla popolazione civile che accompagnava l'esercito e questo è un monumento come vedete di forma cilindrica la cui rivestimento è andato completamente perduto che si pensa che fosse il monumento di Druso, il monumento forneraggio di Druso, non la tomba perché Druso non fu sepolto qui ma il cenotafio, cioè la tomba vuota, tomba onoraria per così dire, di cui questo è un tentativo di ricostruzione. E' importante anche a Magonza una colonna eretta in umore di Nerone dagli abitanti delle Canabe e proprio dai Canabari che si definiscono così nell'iscrizione. Una colonna offerta a Nerone per avere scampato alla congiura dei Pisoni. Quello che abbiamo visto è una riproduzione che sta in una piazza di Mainz o meglio ci stava in questo momento è fuori è stata portata in Tastauro e questi sono i metri originali che erano conservati nel museo di Mainz. Lungo il Reno per capire meglio anche la strategia difensiva dell'impero furono trovati anche i resti di una flottiglia che ora è stata in qualche modo ricomposta e restaurata ed esposta in un museo delle navi a Mainz a Magonza. Abbiamo visto qualche testimonianza un po' affrettata e sparsa di Magonza che sta in una Germania inferior cioè nella parte inferiore del corso del Reno Magonza nella Germania superior nella parte superiore del corso del Reno in questa parte c'è anche Argentorate Strasburgo e questa è una stella funeraria di un soldato che prestò servizio ad Argentorate e che è nativo di Lucca come dice l'escrizione è il primo personaggio di Lucca di cui si conosca il nome nella storia prestava servizio a Argentorate sia Argentorate sia Magonza sia Amogontiacum erano lungo il Reno quando ci fu l'allargamento del territorio da parte degli imperatori Flavi queste città Strasburgo e Magonza non si trovano più in prima linea quindi ancora più rapidamente si andarono evolvendo in città civile questa è un'altra stella funeraria importante questa è molto nota fra l'altro è di Celio di origine bolognese Marco Celio della legione diciottesima che era uno di quelli che ha combattuto nella battaglia di Teutoburgo in cui fu sconfitto Varo in cui praticamente finì nel 9 d.C. il disegno di conquista dell'intera Germania fino all'Elba e nella lunga iscrizione c'è scritto anche che ceci dit bello variano cioè nella guerra di Varo quindi un personaggio che era morto in quella battaglia decisiva e poi c'è l'ultima frase impressionante ossa in ferro i licebit cioè sarà sarà possibile metterci le ossa inserire le ossa come se fosse tutto inteso se saranno trovate ecco in realtà è stata trovata la località dove è stata combattuta questa guerra Teutoburgo la selva di Ottoburgo risponde all'attuale centro di Calcrise vedete qui il nome e qui adesso forse è troppo lungo spiegarlo c'è tutta la tattica che usarono i Germani per prima dividere in due la colonna romana che marciava nella Boscaglia poi per aggredirla di sorpresa avendo creato fra l'altro in precedenza ostacoli imprevisti per la marcia dei Romani che furono quasi completamente annientati e a Calcrise è stato trovato in maniera abbastanza impressionante un'enorme serie di corpi sepolti di corpi anzi che erano rimasti insepolti solo il tempo li ha sepolti e fra questi può darsi che ci fosse il povero varo che abbiamo visto prima qui sono stati trovati oltre a queste testimonianze così impressionanti anche alcuni pezzi di prestigio come questa maschera di un elmo che evidentemente era un elmo molto prestigioso forse più un elmo da parata che un elmo da combattimento appartenente evidentemente a qualche generale romano Quintilio Varo o uno dei suoi collaboratori e queste sono ghiande missili cioè specie di proiettili che si tiravano con una fionda che sono stati trovati numerosi sul campo di Calcrise un'altra ecco un po' questa è la situazione è la posizione di Calcrise un po' più ancora un po' più lontano dall'odierno da quello che è poi rimasto per sempre il confine è Hildesheim dove è stato trovato questo è un altro caso interessante un tesoro ricchissimo 62 pezzi di bellissima fattura alcuni dei quali di fattura urbana di fattura fatti a Roma stessa alcuni forse in province come le province galliche che erano molto note anche per l'orificeria oltre che per la ceramica e la metallurgia in genere e questo vediamo un po' abbiamo un po' un'idea della consistenza di questo tesoro che dove essere si è pensato il servizio da tavola di un generale romano siccome tutto sommato Hildesheim non è tanto lontana da Teotoburgo abbiamo visto qualcuno ha pensato perfino potesse essere stato la preda di guerra dopo la sconfitta inflitta ai romani a Teotoburgo e il tesoro fosse stato portato in questa località lontano da ogni resto antico per la verità forse era stato anche questo sepolto in attesa di tempi migliori in qualche momento di crisi e poi i tempi migliori non vennero e rimase sottoterra fu scoperto all'inizio del novecento ed è conservato in musei di Berlino ora vediamo due realtà che stanno a cavallo del confine per così dire Salzburg e Waldgirmes questo è il castrum della Salzburg sulle alture del Taunus fa parte di quella parte di territorio che fu aggiunta dagli imperatori Flavi poco lontano da Francoforte che è stato ricostruito per volontà dell'imperatore per volontà del mi spugge il nome dell'imperatore scusate alla fine dell'ottocento è diventato un museo un museo dell'imes cioè sono stati ricostruiti alcuni degli degli edifici e sono stati adibiti come sede museale e tutto intorno c'è tutta una serie di apprestamenti per far capire come funzionava la vita del castrum il castrum ecco essenzialmente lo schema è abbastanza fisso i principi al centro il pretorium rispettivamente il luogo di adunata e il luogo di residenza del comandante baracche per le truppe e per per i cavalli per i depositi e così via e soprattutto queste strade che si incrociano perpendicularmente nei due sensi questo è ovviamente uno schema che è molto diffuso in tutti i castrum che conosciamo questa è una ricostruzione appunto è stata ampiamente ricostruita la Zalburg un tratto di mura con porta ecco ma poco al di là del confine cioè poco distante verso est rispetto alla Zalburg si trovano qualità che si chiamava che si chiama Waldgirmes come avete visto prima nella di L'Eglia Scalia chiamiamola così dove state trovati molti pezzi interessanti fra i quali due fra i quali alcuni fremmenti di una di una figura di un cavallo e sul terreno oltre a vari edifici che testimoniano in un centro abbastanza strutturato sono trovati i resti di quattro pilastri come se fossero base di un arco quadrifronte che dove essere poi sostegno di una forse di sculture di sculture equestri quindi questa testa di cavallo di squisita fattura come si direbbe deve essere una i resti di una di queste teste di di queste statue equestri che caratterizzava questa parte centrale della della località valgirmes che fu abbandonata dopo che l'abbandono dell'imes quindi è un modo è una delle forme in cui si manifesta una presenza romana oltre il confine cioè diciamo è una presenza un po' residuale ciò che resta di una conquista che era stata fatta e che poi fu abbandonata sembra che fra l'altro l'abbandono è stato molto ordinato e molto senza senza particolare fretta evacuato con molto ordine questo centro sempre rapidamente cercando di fare rapidamente vedendo una serie di nomi scandinavi più scandinavi più precisamente danesi siamo nelle Marche in tutti questi centri illerup lontani dall'imes sono stati trovati resti però di oggetti romani soprattutto gran quantità di armi specialmente illerup il nome è questo sono stati trovati numerosissimi punti di lancia e punti di freccia e in un'altra qualità chiamata nidam sono stati trovati centinaia di armi romane addirittura e questo destra qualche sospetto qualche dubbio sono armi sottratte all'esercito romano in qualche episodio che non conosciamo sono armi che furono invece magari donate dall'impero romano in qualche tentativo di missione diplomatica molto probabilmente alcune di queste armi bisogna pensare che furono proprio vendute dal sono talmente numerose che è impossibile che fosse un dono può darsi che sono state vendute di produzione romana ma vendute a popolazioni germaniche con rischio di venderle a potenziali nemici insomma però resta l'idea di questa enorme disponibilità di questo enorme numero di armi romane anche qui poi sempre in uno di quegli di quei luoghi che abbiamo visto cioè Hobie guardate questi ritorni indietro qui alla parte meridionale dello Jutland è stato trovato un altro tesoro di argenteria molto importante non così numerosi pezzi come nel caso di Hildsheim ma pezzi molto pregiati anche con con scene come questa tratta dall'Iliade qui Achille che rende omaggio a Priamo e sono testimonianza di presenza di opere di grande raffinatezza anche questi difficile dire se fosse una preda di guerra o frutto di un acquisto perché si trova perché questi tesori si trovano nella tomba di uno dei capi di queste tribù dello Jutland qualche altro pezzo nei rapporti fra il centro dell'impero e queste popolazioni così settentrionali c'è un caso molto particolare che si può accennare la presenza di un particolare tipo di resina fossile che è l'ambra e c'era proprio una via dell'ambra che arrivava dalla parte settentrionale delle popolazioni germaniche fino attraversando l'Europa continentale fino ai porti dell'Italia settentrionale Trieste e Aquileia soprattutto Aquileia e da qui venivano distribuite ambra che è una sostanza particolarmente ricercata e si ha addirittura la memoria di un di un senatore che fu di un cavaliere scusate un cavaliere romano che fu inviato da Nerone nel Baltico per approvvigionarsi di ambra con la quale poi bisognava decorare l'anfiteatro che Nerone aveva fatto costruire che era in legno quindi non ne restano avanzi riconoscibili o forse qualcosa ma molto molto poco ma era un teatro di grande pregio appunto con decorazioni così così sottili anche con polvere d'oro mescolata alla sabbia quindi senza badare a spese però era un teatro piccolo quindi era un teatro in legno ma ambizioso in cui la presenza dell'ambra giocava alla sua parte andando proseguendo sull'imes danubiano dopo aver visto soltanto l'inizio con il limes retico vediamo una serie di città che sono diventate poi capitali nate come castra dell'imes danubiano qui non ci sono strutture ma soltanto strada e soprattutto il fiume ci sono Vindobona Vienna Carnuntum Lodierne Petronel non è esattamente una grande capitale però è un insiedimento che va tenuto presente e poi più poi più avanti Singhidunum Belgrado e poi Aquincum Budapest ecco e c'è una situazione particolare qui vicino a Bratislava dove accanto al centro di Gerulata fu trovato un insediamento subito al di là del fiume come un avancorpo poco per dire forse presenza italiana scusate presenza romana al di là dei confini dell'impero ma è diciamo una testa di ponte più che altro al di là del fiume qui è la città di Bratislava e su quest'altra riva sono i resti del forte che si trova nell'attuale Slovacchia e che forse il castrum è più settentrionale lungo il corso del Danubio proseguendo ecco qui arriviamo Singhidunum Belgrado proseguendo lungo il corso del Danubio arriviamo alla zona che poi sarà la base per la conquista della Dacia nella provincia di Mesia accenniamo soltanto a questo per quanto sia cose molto importanti ovviamente nella storia dell'impero perché la guerra come sapete combattuta da Traiano 101-102 e 105-106 dopo Cristo due campagne fu faticosissima fu cruenta e portò alla conquista di un territorio che rimase poi per un tempo relativamente limitato quello della Dacia dell'impero romano quindi si può considerare forse se vogliamo tenere presente il titolo del nostro appuntamento una presenza oltre i confini di una cosa che per un po' di tempo fu inserita nei confini ma che però non ne fece parte molto a lungo una base fu Viminatium che troviamo raffigurata nella colonna Traiana di cui si è tentato sono stati trovati resti abbastanza cospicui sono tentate ricostruzioni ecco c'era un anfiteatro anche che potrebbe essere quello che era raffigurato nella scena della colonna Traiano che abbiamo appena visto e c'era la tomba di un imperatore del terzo secolo ostiliano morto intorno alla metà del secondo secolo evidentemente morta sul fronte la seconda metà del terzo secolo dopo Cristo ma soprattutto qui è importante la zona attraverso la quale Traiano passò in Dacia dopo essere passato per Viminatium c'è la zona vicino alla località che si chiama Pontes e al di là c'è il forte di Drobeta che è vicino alle porte di ferro sulle pendici rocciose del fiume vicino al Danubio in questo tratto in cui il corso del fiume un pochino si allarga la porta di ferro è stata scolpita in tempi recenti questa gigantesca figura di Decebalo che era il re della Dacia il re dei Daci quello che Traiano affrontò in queste due campagne obiettivo anche qui era puntare molto sulla mobilità e sulle comunicazioni quindi non solo c'era il Danubio navigabile ovviamente che era una formidabile via di navigazione ma Traiano migliorò anche l'assetto delle strade che le eseguivano e questa era una delle un'edicola in cui si commemorava l'impresa fatta da Traiano nell'ampliare la strada che seguiva il fiume per la verità è un punto in cui è stata creata una diga quindi il livello del Danubio si è alzato questa edicola è stata rialzata per consentirle di restare sopra il pelo dell'acqua è stata manipolata in pratica tutta la parete rocciosa di questo tratto del Danubio ecco la località da cui Traiano passò in Dacia si chiama Pontes perché nell'intervallo fra la prima e la seconda guerra dacica qui sarà costruito il ponte di Apollodoro di Damasco il richiedetto di fiducia dell'imperatore creatore anche del foro Traiano a Roma che vediamo in questa scena della corona traiana vediamo in uno schema ricostruttivo parte in blocchi di pietre parte in legno e questo è un tentativo di ricostruzione qui velocizziamo un pochino ecco ci fu una battaglia importantissima questa si pensa che fosse la battaglia di tape proprio all'inizio della prima campagna si conclude con lo suicidio del re dei Daci di Cebalo in questa che è l'ultima scena importante della colonna la capitale dei Daci si chiamava Sarmidgetusa questa è l'epoca dacica con questi monumenti molto interessanti ma che ora non si possono commentare forse questo era un calendario solare e questo è l'anfiteatro che fu costruito invece dopo la creazione della nuova Sarmidgetusa Ulpia Traiana Sarmidgetusa che però era molto lontana dalla Sarmidgetusa dacica questo era l'essetto della provincia che ora abbandoneremo immediatamente però purtroppo la cosa più interessante è che ci sono c'è il limes del fiume costituito del fiume ma ci sono come tanti limites interni strade accompagnate da torri e fortini che era un po' era una provincia evidentemente molto militarizzata la Dacia proseguendo oltre lungo il corso del Danubio si arriva verso la fine verso la parte terminale del fiume stesso dove c'è un grande monumento Tropeum Traiani che è quello che ricorda queste guerre uno stile provinciale penantinomasia cioè poca attenzione alla correttezza anatomica ma molto alla vivacità e la comprensibilità dell'espressione vedete addirittura i corpi disarticolati sono sempre raffigurati romani che hanno la meglio sulle popolazioni questa non si vede sulle popolazioni arrivate chiamate a soccorso da da Decebolo in un tentativo di diversione dal teatro principale delle operazioni comunque un trofeo un monumento di tipo tropaico che ha la principale funzione di deterrente un pochino visibile da molto lontano in uno degli ultimi tratti del Danubio così ci siamo un po' avvicinati alla fine dell'Europa ora dovremmo non so bene quanto tempo abbiamo e cercheremo di farlo avere un'idea di quello che succede al di là nel continente asiatico nel continente africano ci sono alcune situazioni che francamente non sono rinunciabili quindi ecco cominciamo con vedere forse il continente africano e la diacente Arabia qui vediamo ecco forse qui si ha un'idea migliore anche se riassuntiva la distesa delle province romane lungo la parte settentrionale del continente africano mauretania africa pro consularis cirenaica e poi l'Egitto che è proprietà privata dell'imperatore e non esattamente provincia che occupano comunque tutta l'ampiezza della parte settentrionale del continente e di ricordare come dicevamo già nell'appuntamento dell'anno scorso che tutto il Mediterraneo è interamente romano non c'è un metro che non si è inserito nel territorio dello stato romano e così naturalmente anche tutta la parte settentrionale del continente africano cominciamo dalle mauretanie mauretania tingitana dell'odierna tangeri che si chiamava tingis mauretania tingitana mauretania cesariensis la cesarea iol che oggi si chiama shershel ecco queste sono le due città principali e sono dovute a Giubbe II raffigurato in questo splendido ritratto Giubbe II era un savrano molto padrone della cultura classica compagno di studi di Augusto addirittura quando Augusto era ancora ottaviano amico di Augusto e perciò la Numidia venne praticamente in possesso quantomeno sotto il controllo dell'impero romano senza colpo ferire Giubbe II aveva sognato di fare di Cesarea iol che abbiamo appena visto una seconda Roma in più aveva un'altra capitale che era Volubilis almeno queste due città vediamo uno scorcio l'area centrale di Volubilis e c'era anche un impianto per la produzione di Garum e una pianta orientativa così di Cesarea in cui forse si riuscirà a cogliere se vedete questo strano anfiteatro di forma molto allungata non nellisse ma in pratica una specie di rettangolo con i lati arrotondati una forma di anfiteatro abbastanza inconsueta ma noi qui siamo per andare oltre il Limes e quindi lasciamo da parte seppure a malincuore queste due importantissime città un'altra città importante è Sala lungo la quale c'è una fossa che qualcuno interpreta che sia un tratto di Limes altri interpretano come fortificazione locale con questo si introduce un po' l'idea che il Limes che sta a sud delle province africane non è un Limes molto strutturato come quello che abbiamo visto in Europa è un Limes un po' mobile un po' non dotato di grandi strutture ma semmai soprattutto di un fossato prima di abbandonare la Mauritania o di Erno corrispondente più o meno l'Odi Erno Marocco c'è una situazione molto particolare da vedere e con questo siamo oltre il Limes anzi siamo oltre le colonne d'Ercole siamo al di là del mare Nostrum è un'isola che si chiama Mogador oppure Essaouira ecco vicino a questo villaggio a questo bellissimo centro fortificato c'era quest'isola dove accanto a ciò che resta di un antico carcere costruito in tempi recenti ci sono resti lungo questo pendio di un grande impianto di varie concamerazioni che era probabilmente un impianto industriale c'erano parti di abitazione ma anche un impianto industriale per la lavorazione di un mollusco con cui si produceva la porpora era stata in precedenza una prodo fenicio e adesso si pensa sulla base di varie informazioni che fossero queste le insole purpurarie cioè le isole dove si produceva la porpora e quindi fosse un stabilimento molto importante e si pensa addirittura che fosse la proprietà di Giubba II stesso è una cosa molto singolare interessante ora qui andiamo avanti nelle altre province africane questa Africa Proconsularis dove forse vedremo accenderemo soltanto a Cartagine dotata di porto e a Leptis ma ci sarebbero tantissime altre città dell'Africa Proconsularis Leptis Magna dove c'era un grande mercato e questo ci porta al di là del confine perché questo mercato era in corrispondenza con il Mediterraneum con il centro delle terre con il centro del continente Mediterraneum non significa mare mediterraneo che invece si chiama Mare Nostrum cioè uno dei ricchi personaggi che abitavano a Leptis che proprio in corrispondenza con il sud del paese per l'importazione per un particolare tipo di importazione Elio Lamia che parla di una e che addirittura ha offerto parte ha offerto fondi per la costruzione di una strada in Mediterraneum e perché Elio Lamia e altri come lui probabilmente avevano interesse a questa strada verso l'interno del continente perché per esempio a Germ che qui vediamo molto lontano che è stata inserita sì nel territorio dell'impero ma per un periodo abbastanza limitato sotto settimese vero per il resto era abbastanza lontana diciamolo pure dalla provincia vera e propria a Garama a Germa c'era un importante mercato adesso vediamo bene un po' di che questo l'esistenza di una strada che andava verso Germa che poi sembrava tanto lontana ma invece qui sono 700 km dalla costa si inserisce una serie di movimenti sul lunghissimo raggio proprio di questa zona dell'impero da parte di truppe che per vari motivi ispezione ricerca lotte contro popolazioni barbariche controllo del sud delle zone desertiche si spingevano molto a sud nell'area che sta al di dietro a sud delle province vere e proprie e qui sono varie spedizioni ora vediamo se riusciamo a vederle sono varie spedizioni che in vari momenti raggiungono questa zona a sud del Sahara si può dire e in questo circuito è inserita per esempio Garama la città che abbiamo appena visto di cui questa è una parte centrale di cui queste sono mura di Cinta che era sede come dice il nome stesso della popolazione dei Garamanti nella zona che si chiama attualmente Fezzan e che era specializzata nel commercio di belve per l'anfiteatro quindi le spedizioni di personaggi come Elio, Lamia e altri mercanti ma anche in qualche caso le spedizioni dell'esercito erano proprio volte a controllare i mercati e a controllare i rapporti con i mercanti stranieri diciamo con i mercanti africani a cui ci si rivolgeva e che cosa si che cosa si trovava soprattutto i Garamanti si trovavano soprattutto belve per l'anfiteatro merce preziosissima perché erano spettacoli molto ambiti in tutto l'impero romano ed erano dispendiosissimi in questo senso perché si consumavano per così dire belve in quantità incredibile quindi il commercio con i Garamanti era il suo più importante in questa strana organizzazione della vita pubblica che avevano i romani in cui i giochi gladiatori occupavano un così grande spazio la cosa interessante è che forse uno dei membri di una delle spedizioni quella di quella che svolse all'epoca di Augusto Cornelio Balbo contro i Garamanti o forse in una delle esplorazioni a fini commerciali alcuni gruppi di romani si insediarono stabilmente in questa zona così meridionale 750 km dalla costa creando anche uno di loro non sappiamo non sappiamo chi non ci sono ispezioni creò questo monumento che è un monumento un mausaleo romano in piena regola e forse si può dire monumento romano più meridionale del mondo nel Fezzan poi ci sono anche altre tombe forse di altri personaggi che si erano radicati a fini commerciali in questa zona Cornelio Balbo dunque ci sono da dire due cose su di lui primo che affrontò i Garamanti in qualche occasione in cui i Garamanti evidentemente non tenevano un rapporto soddisfacente con Roma e poi come impiegando in qualche modo il bottino di queste conquiste di queste vittorie fu incaricato ad Augusto di costruire monumenti come il teatro di Balbo a Roma con l'annessa Critta Balbi Lucio Cornelio Balbo quindi un personaggio che conosciamo qui invece attraverso un documento più tardo gli emigranti mosaici di Piazza Armerina vediamo alcune scene di quello che succedeva nelle terre dei Garamanti e in altri territori di approvvigionamento di Belve cioè caccia alle Belve stesse caricate poi su un carri portate a un porto fatte salire un po' un po' pericolante questo elefante che sale su una nave e poi portati anche in al centro dell'impero e in vari altri anfiteati in giro per tutto l'impero di questo abbiamo già parlato forse parlando dei commerci e ne hanno parlato quest'anno nelle conferenze di quest'anno Cinzia Vismara e Rossella Rea l'amica Rossella Rea a cui chiedo perdone di questa esitazione questo è Gat un altro che era un luogo fortificato molto a sud nel deserto dove un'omissione romana un'omissione italiana sta scavando da tempo esisteva anche qui un insedimento romano una fortezza di frontiera di oltre frontiera quindi l'imersa è un senso un po' così vago da queste parti ultima cosa forse che vediamo in questa serie di cose in questa serie di realtà al di sotto delle province che abbiamo detto è la tomba di Tin Hinan a Balessa Balessa è molto a sud come abbiamo visto si trova in questo punto molto più a sud di Germa di Garama per esempio quindi molto più lontana quindi è un luogo abbastanza importante che si trova poi nella zona del Hoggar che è la terra di pertinenza dei Tuareg c'è mi dispiace queste immagini così piccole ma c'è in questa in questa in questa zona questa specie di tomba fortificata una tomba che si trova all'interno di una fortezza circolare frammentata divisa in vari ambienti questa tombe molto grandi circolari sono abbastanza sono diffuse in questa zona ci sono almeno due importanti che sono la cosiddetta tomba della cristiana in mauretania che forse è una tomba di Giuba II stesso e di tutta la sua di tutta la sua stirpe poi il cosiddetto Medracen in Algeria in Numidia antica Numidia che era che faceva parte della Proconsularis che era invece la tomba la tomba però precedente alla dominazione romana di un re Numida di una dinastia numidica del terzo secondo secolo a.C. nell'ambito della tomba di Tin in A nella tomba della località di Abbalessa c'era una nell'ambito di quella costruzione che abbiamo visto una specie di tomba di mausoleo fortificato c'è proprio la tomba l'alloggiamento dove era inserito un corpo di una giovane donna bianca di carnegione e molto alta che stata siccome era così e aveva avuto questa sepoltura così importante si pensava che fosse un personaggio di assoluto riguardo e la cosa l'ipotesi che è stata avanzata seriamente è quella che fosse un personaggio storico ma semileggendario Tin Hinan la prima regina del Hoggar la regina dei Tuareg l'area dei Tuareg è questa come vedete e queste sono immagini di fantasia di Tin Hinan e gli uomini blu che attraversano il deserto i Tuareg qui siamo passati la parte orientale dell'Africa cioè l'Egitto che per il fatto stesso di essere sede di una altissima civiltà altissima e antichissima civiltà e per il fatto di essere proprietà privata dell'imperatore non provincia vera e propria è un po' una situazione a parte ovviamente tutto è basato sul Nilo e sull'importanza del Nilo e del delta del Nilo dove si trova Alessandria ma come vedremo adesso in vedute più ravvicinate c'è una parte importante proprio una parte medionale che rientra un po' con il nostro discorso di mobilità di intensità dei commerci di un limes che in questo caso c'è e non c'è perché non c'è un limes strutturato come in altre province così come abbiamo osservato per le altre province africane cioè per le province africane quindi qui vediamo il corso del Nilo e vediamo la zona del delta in cui si trova Alessandria poi ci sono le piante più dettagliate della parte meridionale che è questa e dove ci sono delle realtà interessanti proprio dal punto di vista dei movimenti dei commerci dei rapporti fra popolazioni diverse questo è uno schema molto così elementare di Alessandria con un impianto creata come noto da Alessandro Magno ma vivissima ancora in età romana dopo la conquista del 31 a.C. quando Ottaviano batte Antonio e Cleopata nella battaglia di Azio e le legioni entrarono a Alessandria nel 30 e Alessandria diventò una città romana e continua a svilupparsi conservando il suo bellissimo porto diviso in due bacini quindi con due possibili con due possibili ingressi al sicuro delle navi a seconda di come tirasse il vento e con il famosissimo faro una delle sette meraviglie del mondo importantissima anche la biblioteca distrutta ai tempi di Giulio Cesare e che ora in qualche modo sopravvive nella modernissima biblioteca creata in questi ultimi tempi e queste sono le tante possibili ricostruzioni del faro di Alessandria che per la verità sono tutte un pochino fantasiosi sono stati trovati del faro alcuni blocchi sepolti nel porto poco per ricostruire una forma vera e propria qui se si riesce a seguire questa piantina seguendo la nostra freccina abbiamo una zona dove è stata affrontata Antinopolis cioè la città che Adiano fece costruire dopo che il prediletto Antino era morto nel Nilo proprio in questa zona una città quindi eminentemente celebrativa ma però anche collocata in un punto commercialmente utile perché raccordava in pratica il Nilo attraverso questa strada che proprio qui cominciava che andava verso la costa dove c'erano numerosi porti vedete proprio un brulicare di porti in pratica e c'è una una fonte antica il periplo del mare di Treo un testo anonimo che elenca tutti i porti infiniti quindi conosciamo tutti i nomi di questi insediamenti lungo il Mar Rosso e poi anche proseguendo verso nell'oceano indiano e fra cui quelli che forse ci interessano di più sono questi vicino questo di Mios Ormos dove secondo Plinio Mios Ormos almeno 210 navi all'anno partivano e tenuto conto che in alcune stagioni non si navigava è un numero altissimo e poi due località minerarie di grandissima importanza il Mons Porfirites e il Mons Claudianus Mons Porfirites come dice il nome stesso è il luogo dove si trae il Porfido il Mons Claudianus è un po' la cava dove si sta il granito cioè proprio le due pietre per eccellenza che si cavavano in Egitto e che poi erano esportate in tutto l'impero a Roma e in tutto l'impero attraverso navi speciali erano esportate faticosamente al Nilo poi da qui a Alessandria oppure erano imbarcate i suoi porti del Mar Rosso e quindi anche destinati ad altri continenti qui c'è una situazione molto particolare si sa che Augusto aveva fatto costruire un canale che si può considerare un antecedente del canale di Suez proprio in questo tratto qui lavori a cui aveva collaborato anche il Fido collaboratore ha collaborato il Fido Agrippa il genero Agrippa che morì proprio però per un banale incidente durante i lavori per questo canale morì nel 12 e il canale fu inaugurato nell'11 ora non è ben chiaro se questo canale sia rimasto in uso cioè la rotta attraverso l'Istmo di Suez chiamiamolo così fosse praticabile oppure se si rivolgessero i traffici soltanto in strade che raggiungevano il Nilo e da lì poi si raggiungeva Alessandria e lì stavamo tranquilli comunque tutta questa zona c'è un'attività di movimento di traffici fortissimo qui si vede meglio hai fatto meglio mostrarvi subito questa però non si vedeva Antinopolis qua qui si vede il monso Porfidites e qui il monso Claudianus e non lontano appunto il porto di Mios Ormos poi vediamo anche il porto di Berenice anche un altro porto interessantissimo siamo nella parte meridionale evidentemente dell'Egitto molto all'interno ma molto frequentata a causa di questi luoghi di produzione di materiali così preziosi che fra l'altro dalle iscrizioni ritrovate erano frequentati da personaggi altamente specializzati non era mano d'opera servile o mano d'opera non specializzata quindi una situazione interessantissima importantissima nell'economia dell'impero questo è il monso Claudianus con l'insiedimento per gli operatori stessi queste sono alcune colonne rimaste in situ e non partite per Italia o per altre località questa è la strada che conduce il monso Porfidites ai porti del Mar Rosso e questi sono scorci del monso Porfidites su un'altura come questa era costruito anche un tempio dedicato a Iside di cui resta pochissimo per la verità questo è un tentativo di ricostruzione questo è Porfido che si cava in questa zona di monso Porfidites il più nuovo monumento di Porfido che forse conosciamo è il gruppo dei patriarchi a Venezia ma ancora più a sud si spinsero le truppe di Nerone per esplorare le sorgenti del Nilo arrivando fino nel territorio dell'attuale Kenya e Uganda con le cascate Marcison che sono queste cosa interessava Nerone delle origini del Nilo delle sorgenti del Nilo intanto c'era un po' da parte di tutti gli imperatori romani un forte interesse per aspetti scientifici ma era anche un modo di tentare di andare a controllare zone sempre più a sud proprio nella prospettiva di commerci trans-sariani sempre più importanti e questo è un bellissimo ritratto di Augusto uno dei più belli che si conoscano di bronzo con inserti di materiali preziosi che fu trovato a Meroe nella Nubia cioè al di fuori dei confini dell'impero ma anche al di fuori dell'Egitto probabilmente fu predato e portato a Meroe in occasione di contrasti piuttosto vivaci che ci furono sempre in età di Augusto appunto fra l'impero romano e la regina Candace regina delle tribù della zona la capitale di queste popolazioni della Nubia era a Meroe e lì è stato trovato questo bellissimo bronzo siamo nel paese dei cosiddetti faraoni neri evochiamo qui invece siamo nella penisola arabica quella che non scusate qui c'è una cosa che non mi convince dunque la penisola dell'Arabia diciamo così è fin troppo banale ricordare che nell'Arabia romana è nota soprattutto per Petra Gerasa e Bostra città molto note su cui in questo momento a malincuore non ci soffermiamo ma invece più a sud nell'ambito dell'attuale Arabia Saudita troviamo delle tombe che ricordano però una latitudine molto più bassa quella delle tombe in qualche modo le tombe di Petra stessa le tombe cioè di Ren Batei questa è una località che si chiama Medin Salè e si trova proprio più o meno nel bel mezzo dell'Arabia Saudita e così si troverebbe in questa zona qui più o meno mentre invece qui noi andiamo a vedere la penisola arabica per un altro motivo con cui poi ce l'ontaneremo per una rapida incursione in Afia prima di andare in Asia bisogna ricordare la zona corripondente all'attuale Yemen che era il territorio della Arabia Felix come la chiamavano i romani e come la chiamava Augusto che in vano tentò di conquistarla qui stiamo assistendo a una serie di mancate conquiste da parte di Augusto dove circolavano poi antiche leggende come quella della regina di Saba la zona di Saba dei Sabei è una delle zone in cui ci articola l'Arabia Felix più o meno corrispondente all'attuale Yemen le altre sono il Kataban la Dramaut questa zona era molto interessante dal punto di vista del nostro discorso perché si producevano da queste parti cose ricercatissime come la mirra l'incenso che erano molto molto ricercate nell'ambito dell'impero romano e tutte quelle rotte che abbiamo visto prima schematicamente che attraversavano il Mar Rosso per arrivare forse anche per via di terra al Nilo a essere imbarcate oppure che proseguiva nel senso opposto per l'Oceano Indiano erano tutte rotte in funzione di questi commerci di questi materiali così ricercati e così importanti bisogna tener conto una cosa abbastanza singolare che così diciamo divertente che per un certo periodo questa zona fu sotto il controllo dei re di Axum della vicina Etiopia questa è un'epoca abbastanza avanzata nel terzo inizio del quarto secolo dopo Cristo in quel periodo forse nacque una leggenda per cui Salomone si accoppiò con la regina di Saba che però non è una regina sabea ma una regina etiope e ci sono pitture etiopi che evocano questo incontro la cosa anche in maniera abbastanza esplicita nella parte centrale la cosa singolare è che questa diciamo relazione tra Salomone e una regina di Saba che non era araba ma era etiope ha preso molto piede in Etiopia al punto che si pensa che la vera arca della legge sia stata donata da Menelik figlio di Salomone e della regina di Saba a una dinastia etiopica e quindi secondo gli etiopi l'arca è sotto una chiesa di Axum ma credo che nessuno l'abbia mai vista qui invece vediamo in un momento altre realtà interessanti di questa zona nella Sana che è l'attuale capitale dello Yemen da lì proviene questa testa che è un po' una testa femminile che evoca un po' stili faraonici e siriani questa questa pettinatura a boccoli e questo è un tentativo di inserire lo Yemen invece in questa serie di rapporti con la realtà più più vicino con i porti con gli sbocchi più 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 plausibili io sembra che mi si sia alterato l'ordine delle diapositive ma insomma speriamo bene e questa invece da un'altra qualità della da un'altra qualità della della rabbia felix la dramaut che abbiamo visto il cataban che abbiamo visto prima e da Tamna cioè che era la capitale del cataban vengono questi bronzetti di gusto ellenistico proprio quindi una civiltà che è stata a lungo in contatto con la cultura classica e che era a sua volta una civiltà di altissimo livello dal settimo si era addirittura al settimo secolo a.C. la grande diga di Marib che vi presento perché è uno dei monumenti più famosi non solo dello Yemen ma del mondo una diga enorme che poi assorbiva il suo compito in una maniera tecnicamente perfetta questi sono i resti di un tempio che si trova sempre a Marib questo invece scusate di nuovo una parte della diga questo era il terminale meridionale della diga e questa era la chiusa che si poteva attraverso cui si poteva dosare il passaggio o non passaggio di acqua questa viene da qualità non lontana da Sanà ed è una maschera da ilmo e queste sono ciò che resta ma resta abbastanza per le vietà di una figura maggiore del vero che era mentre tutto quello che abbiamo visto di Fionore era di età molto antica come la diga di Marib il settimo secolo la visiera di ilmo era di età ellenistica qui invece siamo in piena età romana che però in questo caso sono i re di i re dello Yemen che si fanno fare opere così così grandi così notevoli una testa di bronzo di buona fattura c'è anche una firma su un ginocchio di un artista greco quindi il contatto con la civiltà classica però in epoca romana e con lineamenti poi baffi per esempio non esattamente di origine classica sorvoliamo sull'Armenia Mesopotamia e Siria che furono abbandonate e allora qui adesso cerco di fare in maniera rapidissima quello che ci manca che purtroppo è importantissimo ma dovrò fare un po' un po' di ordine allora la Siria ci interessa nell'ambito del discorso che stiamo facendo soprattutto per le realtà più orientali Palmira e dura Europa soprattutto il confine della Siria era anch'esso un confine un po' mobile con avanzate retrocessioni con castra tutt'altro che tradizionali come questo che si chiama Kifrin ed è sull'Eufrate o meglio era sull'Eufrate e poi è stato sepolto dalle acque per la costruzione di una diga ecco Kifrin e poi abbiamo fin troppo nota Palmira luogo di incontro tra la civiltà classica e la civiltà partica questo era il Tempio di Bel che adesso è stato distrutto dall'Isis che aveva appunto elementi di architettura classica come le colonne con capitelli corinzi o ionici e merli sul tetto come invece proprio della cultura orientale questo è il Tempio di Bel col suo enorme Temenos e questo è ciò che resta ai medi del Tempio di Bel la via colonnata con l'arco e ciò che resta nell'arco e questo è invece la dura euro post fortezza sull'Eufrate che è stata di volta in volta posseduta dai parti o dai romani nel periodo romano la Gorà era una piazza una grande piazza in epoca in cui dominata dai parti diventò un mercato con molti stand diciamo per l'esposizione per il commercio per i commerci e qui vediamo la fortezza del lux ripe che si affaccia in maniera maestosa sull'Eufrate c'era anche una sinagoga su Doreuropos proprio un crogiolo di civiltà che era caratterizzata dal fatto di contenere a freschi pitture che raffiguravano che rappresentavano la figura umana cosa che in genere nell'arte ebraica non è consentito qui adesso entriamo in tutt'altro territorio andando verso est oltre Palmira e oltre Dureuropos ci sono tutte queste città che qui vediamo penso che si legga Bactra Carsada Taxila Samarkanda Antiochia Margiana tutte città che fanno parte della regione storica della Battriana che sono quella zona che si chiama un po' indogreca perché è un po' a metà fra le culture e le civiltà indiane e quelle classiche saprete benissimo perché questo successo e fra poco ne parleremo meglio intanto vediamo proprio una commissione di elementi orientali e di elementi classici elementi indiani e di elementi classici questo è per esempio una raffigurazione del cavallo di Troia che entra a Troia stessa proveniente da una zona nord-occidentale dell'India con Cassandra che però in abiti che si dispera per l'entrata del cavallo che però in abiti indiani Cassandra qui vedete una raffigurazione di un baccanale con elementi classici ma anche orientali c'è questa certa iraticità e compostezza delle figure che nei baccanali classici non è così esattamente rispettata e siamo nell'ambito dell'arte del Gandhara appunto questa zona influenzata dalla cultura classica che però non rinuncia alla cultura indiana una testa di giovane una statua di arpocrate divinità di origine egiziana una specie di bambino sacro che rappresenta la continuità delle dinastie una testa una statua una scultura che sembra ispirata alla testa all'apollo del belvedere queste vengono località come Taxila Carsada tutte località che fra gli attuali Pakistan e Afghanistan facevano parte della della zona detta del Gandhara e questo è l'Apollo ispirato all'Apollo del belvedere questa è un'altra raffigurazione dello stesso la divinità arpocrate però questa si trova a Begram altra qualità dove si trovano anche vetri raffinatissimi ecco questa zona quindi che si chiama nel suo insieme Gandhara che abbia una fase particolarmente brillante con i re Kushana che sono quelli sotto i quali sono state fatte queste opere che abbiamo visto specialmente sono stati importati quei vetri e prodotte quelle sculture fa parte dell'area che ricevette l'influsso dell'arte classica ai tempi delle spedizioni di Alessandro qui vediamo proprio attraverso queste zone che abbiamo nominato attraverso la Battriana la Sogdiana questa è la zona dell'arte del Gandhara poi diventerà tutte le terre attraversate da Alessandro nella sua spedizione che hanno lasciato appunto questo segno indelebile questa è Samarkand che si trova in Sogdiana queste sono costruzioni ovviamente islamiche del XV e XVI secolo poi ampiamente rifatte in epoche recenti però devo dire con grande effettone in queste immagini anche se gli architetti sovietici che quando l'area di Samarkand è rinserita negli Uniti Sovieti che hanno fatto restauri un po' disinvolti siamo nel Uzbekistan però l'effetto di insieme è spettacolare ma però c'erano anche opere molto più antiche che circolano in questa zona che sono notevoli questo è Eutidemo di Battriana per esempio un re dell'area Battriana che sembra quasi il suo ritratto lui regna nel terzo secondo secolo avanti Cristo il suo ritratto così veristico con queste pieghe con queste rughe sembra quasi ispirato all'arte repubblicana romana questo è il famoso ritratto Torlonia cioè questo stesso gusto per i segni impietosi dell'età insomma questo verismo spinto quindi c'è questo questi contatti molto interessanti fra diverse culture e poi adesso vediamo una testimonianza precisa dei commerci dell'India sia attraverso questa statuetta di questa divinità Lakshmi divinità della bellezza indiana questa è una statuina di avorio di una donna riccamente ingioiellata fiancheggiata da ancellere figurata in dimensioni minori è una statuina che si trova a Pompei cioè una statua sicuramente indiana che però si trova a Pompei evidentemente c'erano vari commercianti che frequentavano l'Italia meridionale Pompei in particolare c'era sicuramente una comunità di indiani e questa è un'altra visione di Lakshmi ecco e tutti questi centri che qui vediamo Arikamedu di cui parleremo fra poco ma anche Muziris e tutti i centri di commercio romani per esempio nella parte meridionale dell'India si trovava il pepe a Arikamedu si trovavano perle tessuti anche cose provenienti dalla Cina stessa che poi vediamo e poi vengono poi inoltrate per via di mare verso il Mediterraneo quindi rapporti commerciali enormi sia per via di terra che adesso abbiamo percorso fino a qui e poi vedremo come prosegue sia per via di mare specialmente da quando nel primo secolo dopo Cristo era scoperto l'alternanza dei monsoni e quindi le rotte erano più sicure e più programmabili a poco a poco i commerci per via di mare si svolgono più per via di mare quasi che per via di terra ma vediamo rapidamente Arikamedu che poi oppure Pondiscerri come si chiamava questa città capoluogo della India francese sono state trovate monete come questa monete di Augusto peraltro con uno strano segno che sembra quasi fosse un segno praticato per saggiare l'oro della moneta o altre come queste o altre addirittura imitazioni e terracotte di monete usate poi come ornamento ma anche mura come queste abbastanza poderose abbastanza ben strutturate costruite in mattoni sembra quasi un'opera romana ed è invece una struttura costruite in quella località che abbiamo visto poco fa nella carta Arikamedu nella parte sud orientale della penisola indiana del subcontinente indiano abbondantissime quantità di eretina poco brillanti dal punto di vista monumentale ma interessanti dal punto di vista economico anfore vinarie e la cosa importante perché non solo per i suoi contenuti e per questa importanza economica e commerciale ma perché fu scavata proprio da Wheeler stesso con con la con la sua tecnica di scavo che era questa dei grandi quadrettoni risparmiati si scavava per una serie di quadrati con una parte lasciata risparmiata non scavata fra un quadrato e l'altro come per conservare i punti di riferimento nell'ambito archeologico questa tecnica poi è stata abbandonata nell'ambito dell'archeologia orientale è rimasta un po' più a lungo infatti l'altra creatrice di questa tecnica oltre a Wheeler è la Canyon che è un archeologo che ha scavato molto una grande scavatrice di ambienti orientali qui vista con molto minore cura di quanto avrebbe meritato Arikamedu che però è un fatto che rimane piuttosto sorprendente diciamo andiamo oltre e qui ci raccordiamo con quello che abbiamo percorso finora fino a questa altezza qui sono due cose da dire forse vogliamo cercare di concludere su cose che sarebbero di enorme importanza una è un po' un'ipotesi un'ipotesi suggestiva ma tutta da dimostrare poi ormai sarà difficilmente dimostrabile c'è questa località chiamata Zizi o qualcosa del genere non so come si pronunci che è una località dove nel primo secolo avanti Cristo la dinastia Han sconfisse un'altra popolazione cinese gli Kiongnu Ksiongnu credo che si pronunci che aveva a lungo però dominato questa quest'area il primo secolo è una fase declinante approfittò la dinastia Han per farla scomparire dalla scena in pratica ma delle fonti proprio letterarie Han dicono che in questa battaglia decisiva nelle truppe nemiche comparivano soldati che facevano una tecnica una tecnica strana cioè in pratica descrive la testudo cioè la 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 tattica di combattimento dei romani la vediamo anche qui raffigurata nella nella colonna traiana che naturalmente non c'entra niente con questa zona qui comunque combattevano questi soldati riparandosi la testa con gli scudi e quindi qualche studioso ha pensato che qualche elemento romano potesse essere impiegato in queste truppe cinesi la cosa sembra stranissima ma non è del tutto inverosimile perché c'era stata la battaglia di Carre rovinosamente persa da Crasso qui e pochi anni dopo sempre nell'ambito del primo secolo avanti Cristo ci fu questa battaglia in questa località vinta dagli Han l'ipotesi è che alcuni elementi dell'esercito sconfitto a Carre e fossero stati risparmiati non so non uccisi dai parti vincitori la 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 sconfitta dei romani contro i parti e quasi assimilati all'interno dell'impero forse arrualati addirittura poi spediti verso oriente dove poi qui sarebbero stati arrualati da altre potenze la cosa è un po' acrobatica però le distanze non sono infinite le distanze di tempo pure non sono infinite perché la battaglia di Zizi avviene nel 36 Carre era stata nel 53 quindi non è una distanza di tempo insuperabile certo è suggestiva ma tutta da dimostrare ripeto e poi la città principale di Niasia Han dove poi forse fu portata la religione è questa che poi ricorda il nome di Li En che è il nome con cui i cinesi chiamavano Roma l'occidente in generale si hanno altre notizie su cui ora è difficile quelle però storiche reali ambasciate reciproche sia di cinesi a Roma sia di mandate dagli imperatori romani in Cina tutto questo perché ovviamente la cosa che attirava ben prima di Marco Polo qui vediamo Marco Polo nel suo viaggio in Cina interessava l'occidente dell'occidente del mondo cioè del mondo conosciuto cioè la seta siamo sulla via della seta che ancora non si chiamava così perché l'espressione via della seta fu usata da un archeologo tedesco nell'ottocento prima che prima di questo non era un archeologo era un commerciante tedesco nell'ottocento prima di arrivare a questo punto si chiamava via della seta era la via della seta ma non si chiamava ancora così prima dell'ottocento ma la produzione era cominciata in tempi molto antichi la città principale era Seres oppure Sera c'è Plinio che dice che dall'India dall'Arabia e da Sera venivano merci a Roma per 100 milioni di sesterzi all'anno e si pensa che la paga al giornaliero di un soldato era due sesterzi e mezzo quindi cifre colosali si spendevano e lo stesso Pino ci dice poi dei porti del mare Arabica salpavano 120 vascelli all'anno quindi il commercio era sviluppatissimo la seta era ricercatissima sembra anche che la seta fosse stata conosciuta dai romani proprio in occasione della battaglia di Carre perché le bandiere dei parti erano di seta quindi tutte cose particolarmente suggestive che meriterebbero forse un incontro a parte e speriamo che prima o poi il discorso si possa riprendere qui credo che ormai abbiamo visto un bel po' di cose ci sarebbero forse altre piccole situazioni a tenere presenti ma penso che non sia il caso ormai dopo tanto tempo di dilungarsi per correttezza devo informare che oltre archeologia viva il tema dell'imes non ancora delle zone oltre l'imes è stato trattato anche da Archeo la rivista concorrente di archeologia viva nel numero che in questo caso invece è ancora in edicola è un articolo molto lungo fra l'altro molto dettagliato molto molto accurato e quindi chi voglia forse informarsi dell'imes potrebbe approfittare di questa occasione nel nostro caso speriamo di avere altre occasioni di incontro in futuro e vi chiedo scusa per l'infinito tempo che ho occupato e anche per qualche piccola esitazione che c'è stata in questo mare di cose da controllare e ringrazio sia voi che mi vedrete quando questo incontro sarà messo sul sito sia di nuovo gli amici qui presenti che sono stati il mio pubblico in questa occasione e che ringrazio soprattutto della consueta amichevole e anche ha però serissima competenza tecnica arrivederci a tutti grazie grazie